Ciao, bentornato oggi sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1 con notizie come Cicogna in arrivo a Monaco. Dopo anni è rimasta incinta proprio lei, la famiglia Grimaldi finalmente si allarga Nessuno si aspettava più che la bellissima nobile donna decidesse di fare il grande passo. Principato di Monaco.Buone notizie per il Principato di Monaco Dopo anni proprio lei è in dolce attesa. Finalmente la famiglia Grimaldi torna a sorridere Ecco chi è pronta a diventare nuovamente mamma.Cicogna in arrivo a Monaco Finalmente dopo un periodo abbastanza turbolento per la famiglia Grimaldi, arriva una buona notizia, proprio lei è in attesa di un altro bebè La dinastia più chiacchierata del Principato è pronta ad allargarsi Famiglia Grimaldi.La famiglia dei Grimaldi ha vissuto un anno molto particolare soprattutto per via dei problemi di salute che hanno colpito la principessa Charlene La Whitstock è stata lontana da Palazzo Reale per tantissimi mesi a causa di una terribile infezione che ha messo a serio rischio la sua vita Ora che la sua situazione salutare sembra essere stata ripristinata, tutti a Palazzo dei Principi possono tirare un sospiro di sollievo Finalmente il sole torna a splendere e l'arrivo della Cicogna allegra gli animi dei sudditi e della famiglia Grimaldi La famiglia Grimaldi si allarga.giungono buone notizie dal Principato di Monaco, proprio lei è pronta ad allargare la famiglia Stiamo parlando di Charlotte Casiraghi.La figlia di Carolina di Monaco e del compianto Stefano Casiraghi, potrebbe essere in dolce attesa L'indiscrezione viene dalla rivista Family Royale, spunto Charlotte Casiraghi Utilizzare il condizionale è d'obbligo perché per il momento si tratta soltanto di rumors La reale più bella del mondo, così come è stata definita Charlotte dai diversi mass media internazionali, potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio Dunque dopo Raffaele Baltazar, la Casiraghi è pronta ad accogliere un terzo baby Per il momento dunque si allontanano le voci di una crisi e di un divorzio imminente con il marito Dimitri Rassam di cui fino ad ora si è parlato prepotentemente Le cose tra e due sembrano andare a gonfie vele tanto che la coppia avrebbe deciso di allargare la famiglia Come sono nati questi sospetti? Charlotte è stata ospite alla sfilata di Chanel organizzata dalla direttrice creativa del noto marchio di moda Virginie VR L'evento si è tenuto al beach hotel di Monte Carlo. Charlotte era bellissima, con un outfit casual in denim scuro Alla sfilata qualcuno ha notato delle rotondità sospette ma a far gridare alla gravidanza è un gesto della Casiraghi La bellissima Reale è stata sorpresa in uno scatto ad accarezzarsi il pancino come se stesse custodendo un dolce segreto La figlia di Carolina è davvero in dolce attesa? I sudditi del principato ne sarebbero felicissimi Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao ci vediamo nei prossimi video